amici ben trovati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive oggi stiamo lavorando su questa audi a5 in versione coupé versione particolare perché quasi tutte le audi a5 che ci sono capitati sono in versione sportback questa invece è una versione coupé di un nostro cliente affezionato che abbiamo già sul quale abbiamo già col quale abbiamo già collaborato prima aveva una giulietta 14 turbo abbiamo fatto diversi lavori è un cliente molto attento e molto come dire puntiglioso se vogliamo dire quindi vuole sempre i lavori perfetti e la cura nei dettagli in questo caso non abbiamo fatto diciamo abbiamo lavorato in diversi settori senza fare delle cose diciamo eclatanti allora partiamo dal dalla parte diciamo motore c'è chiesto di cambiare gli scarichi in questo caso abbiamo montato due terminali super sprint che sono questi tagliati a 30 gradi che seguono diciamo la linea del paraurti completamente in acciaio inox abbiamo sostituito il filtro dell'aria con un filtro dell'aria a pannello e abbiamo montato il classico pedal booster per diminuire la il tempo di risposta sul pedale acceleratore quindi rendere la macchina più brillante e più reattiva il cliente per il momento non ha voluto toccare la parte elettronica quindi a livello di differenza di prestazioni soprattutto tramite il pedal booster dovevo garantire una certa differenza rispetto alla macchina stock venendo la parte esterna abbiamo iniziato con la parte estetica con il servizio di verniciatura delle pinze dei freni che prima erano in ghisa normale adesso state verniciate rosse sia le anteriori che le posteriori poi il cliente ci ha chiesto di fare un lavoro particolare andando a verniciare questi queste modanature chiamiamole minigonne però chiamiamo più che altro delle modanature che sono adesso in in plastica nera opaca diciamo così quindi sia le modanature che la parte posteriore che questa in questo caso è un grigio verranno verniciati in nero lucido questo sul richiesta del cliente ci ha chiesto appunto di completare la verniciatura di queste due parti e poi l'ultima parte dove il cliente c'è che essere intervenire è la calandra anteriore nel senso che come vedete questa macchina qua è stata comprata usata e importata dalla germania e purtroppo è un dettaglio piccolo però ripeto ognuno ha i propri gusti ed è soggettiva a questa valutazione ha un porta targa adesso quella targa coperta per benarvi ragioni la targa italiana arriva qua questo porta targa è specifico per le targhe tedesche ed è un pezzo unico che non si può staccare cioè integrato nella calandra quindi al cliente non piace vedere questa parte diciamo che sborda a destra a sinistra abbiamo trovato un'altra calandra con un bordo diverso adesso questa l'abbiamo in ufficio dobbiamo montarla nei prossimi giorni che ha nella quale punto è a nido d'ape chiaramente in nero lucido in modo tale da andare a riprendere quelle che sono le parti laterali la parte posteriore ma soprattutto scomparirà questo porta targa di dimensioni eccessive rispetto alla targa italiana in maniera tale da avere la targa centrata senza una sbordatura laterale che effettivamente se uno casca l'occhio non è proprio bellissima ultima cosa che ci siamo accorti ma questo abbiamo già avvertito il cliente dovremmo intervenire su questo faro qua perché probabilmente anche sicuramente c'è una una parte interna che si è sganciato un tappo che si è sganciato essendo questo un faro diciamo a lei deve stare molto attenti che non che non ci sia un cortocircuito perché l'acqua che entra nel faro non è la cosa più salutare per l'integrità perché si potrebbe creare un cortocircuito e cambiare un faro di questi a led di un audi hanno dei costi che sono veramente imbarazzanti quindi dobbiamo smontare quando smonteremo il paraurti perché per cambiare la la griglia anteriore dobbiamo smontare il paraurti a quel punto smonteremo anche il faro e vediamo da che punto entra l'acqua e cercheremo di risolvere anche questo piccolo dettaglio quindi per il momento diciamo su questa macchina abbiamo elencato una serie appunto di lavori che non sono diciamo di che non stravolgono la macchina ma che la rendono più personale come sostanzialmente piace a me il gusto personale è fare alcune cose poche o tante ma senza andare a stravolgere quello che è il l'aspetto peculiare della vettura cioè i tuning che si facevano anni fa con kit estetici di dimensioni improbabili o cose alla fast and furious onestamente io li ho sempre diciamo un po denigrati e avevo ragione nel senso che sono passati di moda adesso sono pochissimi quelli che ancora oggi desiderano fare lavori di questo genere molto meglio fare alcuni ritocchi un vedi non vedi su cose che piacciono al cliente in maniera tale da un po come un abito cucito su misura tutte le macchine moderne escono già quasi perfette quindi anche molto difficile per noi andare a trovare i punti dettagli dove andare intervenire per migliorare e senza andare a fare delle cose pacchiane quindi questo è un esempio dove facciamo faremo perché una parte di lavori li dobbiamo ancora fare dei lavori che però non ripeto sono ancora perfettamente eleganti come lo è questa vettura qua per qualunque genere di informazioni mi potete contattare come dico sempre in sede io sono lì dal lunedì al venerdì contattate il sito www.melageri.it dal quale imparerete parecchie cose andando a consultare tutte le schede vettura quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella soprattutto iscrivetevi al canale perché ci date una grossa mano a crescere soprattutto grazie al vostro interesse abbiamo visto che in questo ultimo anno siamo cresciuti in maniera esponenziale di questo vi ringraziamo per qualunque altra cosa io vi saluto alla prossima ciao 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 ciao